Suora Eugenia Bonetti, le sue emozioni davanti a tutte quelle donne in piazza del popolo sabato scorso, perché una suora su quel palco? Volevo portare la voce, la presenza, la situazione di tante tante altre donne, non solo religiose che si occupano di donne marginate, ma anche la stessa voce di tante donne di cui noi parliamo, di tratta di esseri umani, donne umiliate, sfruttate sulle nostre stade, nei nostri ambienti. Ecco, volevamo dare voce a queste donne e alle tante suori che si occupano di loro. Ero emozionata quel giorno? Ero molto emozionata perché non mi è mai capitato, non ho mai pensato di trovarmi davanti a una folla così numerosa e che ho trovato molto attenta, molto ansiosa di sentire che cosa una donna, una religiosa, poteva dire ad una massa di 500.000 donne o persone che erano in piazza in quel giorno. C'è un problema di dignità e di immagine della donna oggi in Italia? Io penso che non solo in Italia ci sia il problema dell'immagine della donna, ma è diventato un po' mondiale perché l'immagine che i nostri mass media stanno dando della donna purtroppo è solo l'immagine del suo corpo, della sua bellezza, di quello che lei può guadagnare col corpo senza tener conto che la ricchezza di una donna va ben oltre che all'esperienza del suo corpo. Che cosa le donne possono insegnare agli uomini? Io penso che le donne abbiano tanto da condividere con gli uomini, prima di tutto il senso da rispetto della persona. Dobbiamo davvero essere noi coscienti e coinvolti nel pensare che davvero la donna ha un grande ruolo nella famiglia, nella società, nella scuola, negli ambienti di lavoro ed anche nella chiesa perché davvero insieme noi possiamo costruire una società dove ciascuna ha un ruolo particolare, però sempre nel rispetto della persona. Dopo questa manifestazione di Piazza del Popolo si può parlare di un ruolo nuovo delle donne nella società italiana e poi anche nella chiesa? Ma io penso che invece di parlare di un ruolo nuovo dobbiamo riscoprire il nostro ruolo vero che è un ruolo veramente che è fatto dai valori profondi che ogni donna porta in sé è il ruolo dell'accoglienza, della solidarietà, dell'armonia, della gioia, della pace di questo essere veramente il cuore della famiglia, del lavoro, della società ed anche della chiesa perché questo è ciò che la donna è chiamata ad essere oggi in ogni ambito, una persona che veramente sa creare, sa vivere la gioia della vita, dell'amore vero e dell'armonia in tutti i sensi. Allora ecco che la dignità di ogni persona deve essere rispettata, valorizzata perché è il più grande capitale che una società può avere che è proprio quella della dignità della persona umana, della ricchezza che ogni persona porta in sé e questo è un grande dono che il Signore ha dato ciascuno di noi perché tutti noi siamo stati creati a sua immagine e dobbiamo far emergere la bellezza di questa immagine che c'è in ciascuno di noi. Lei l'altro giorno rappresentava 80.000 suore che ci sono in Italia su quel palco, 80.000 suore, 80.000 donne, che aiuto possono dare le suore alle donne in questo paese? Beh prima di tutto l'aiuto che molte di queste suore ci hanno dato in questo paese e in questo momento sono state i 60 monasteri di clausura che quel giorno erano presenti con noi su quel palco e che ci hanno assicurato la loro preghiera perché anche loro come donne sentono questo disagio e la voglia di dire la donna ha bisogno di riprendere in mano il suo ruolo, la sua dignità, la sua immagine e la sua vita per offrire un grande contributo alla società e alla Chiesa.